Ciao, sono Mario e per colpa di un tiro da disfortunato ho l'onore di farvi da presentatore del nuovo canale di DungeonDice.it. Quello che vedete dietro di me è il nostro archivio dove conserviamo tutte le copie aperte o da aprire a scopo dimostrativo e di cui ci serviamo per darvi indicazioni sui prodotti. Ogni domenica troverete un nuovo video commentato da me che sarà consultabile su questo canale di YouTube oppure sulla scheda del gioco su www.dungeondice.it. Nei video esploreremo insieme i contenuti e il funzionamento dei migliori giochi. Per adesso è tutto, un saluto da parte mia e da tutto lo staff di DungeonDice. Ci vediamo domenica con il primo video della stagione dedicato a Run 25. Vi aspetto! Grazie a tutti!